Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 26 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno? Spese pazze ma tutte per amore? Pensare a un capricorno che fa spese pazze sembra quasi una comica, ma se gli acquisti o le prenotazioni di viaggio non li state effettuando per voi ma per le persone amate, i conti, anche se salati tornano. Così parla Venere Spendacciona in seconda casa, indizio che si spende per amore, tutto confermato dal trigono in gioco tra Giove, Urano e la Luna, tutti quanti concreti in segno di terra come il vostro. Figli sereni, abituati a divertirsi tranquilli coi loro giochi e ad amare la natura, le piante, gli animali, se vi chiedono qualcosa, un libro, un giocattolo, un dolce, non dite di no, se poi avete figli già grandi alle prese con loro primo viaggio oltre a confine con i compagni, ripensate con tenerezza e nostalgia la vostra prima volta a Londra o a Berlino, va così che alla somma richiesta aggiungete anche un bonus, il primo viaggio da soli non si scorda mai. Difficoltà e ostacoli per la coppia, soprattutto nella realizzazione di progetti importanti. Tuttavia, superate queste difficoltà, la coppia realizzerà finalmente, e con successo, i propri progetti. Crisi temporanee e di breve durata. Giove vi sorride, approfittate di questo influsso estremamente positivo con decisione. Ricordate che un pizzico di audacia non guasta. Siete grandi a sufficienza per capire se vi ama o no, non lasciate la fantasia volare, restate con i piedi a terra. Ostacoli. Ti sentirai contrariato, frenato. Vai al teatro o al cinema. Giorno ideale per chiarire malintesi. Energie basse. Non stancarti. Vantaggi da compravendite di case o terreni. Un viaggio in vista. Sarai attivo, svelto, pratico e bravo. Riuscirai a sistemare molte cose. Otterrete la promozione agognate. Abbiate solo più fiducia nelle vostre capacità. Fate pace con il vostro cuore, quello che è imprevedibile potrebbe accadere e potreste ritrovarvi a vivere storia incredibile o mozzafiato. Problemi digestivi. Evita alcolici, cibi ricchi di grassi e di zuccheri. Cerca di iniziare una sana dieta. Oggi ci saranno molte divergenze di opinioni da affrontare soprattutto tra amici e colleghi. Superate tutto con cordialità e diplomazia. Non prendete tutto sempre sul piano personale, spesso quello che vi viene detto dagli altri non ha nessun riferimento alla vostra persona. Provate, almeno oggi, ad essere più semplici. Tutti i pianeti si trovano ben disposti per il Capricorno. I moti astrali di febbraio appaiono davvero molto generosi con voi. Diversi corpi celesti vi spalleggiano garantendovi equilibrio, armonia interiore, e nel caso, capacità di tener testa alle difficoltà con spirito indomito. In particolare se siete nati nella prima decade potreste avere qualche contrattempo o forse proprio alcune vostre armi spuntate, ma niente di davvero grave o rilevante. In tutti gli altri casi i transiti vi stanno preparando le occasioni giuste per affermarvi a emergere, oppure per consolidare abilmente le posizioni precedentemente acquisite. Del vostro segno si racconta quanto sia sparagnino e che braccino corto abbia, ma a giudicare dalle spese che effettuate oggi, tutte d'ordine voluttuario e quindi sostanzialmente inutile, c'è quasi da vergognarsi rispetto alla fame nel mondo. Voglia di viaggio o di un luogo inedito, oppure molto noto ma solo per pochi eletti, è così che vi piace muovervi, su percorsi non troppo gettonati, architetture e collezioni vere, nulla di ricostruito, tutto spontaneo, come la coppia Giove-Urano intrigono al vostro segno, pronta a parlare o cantare d'amore, anche se al vostro fianco non c'è ancora nessuno, capace di farvi volare come un aquilone. Amore ed Eros. Nonostante siate indaffarati, dedicate del tempo in primis ai vostri ragazzi, bisognosi di incoraggiamento e di ripetizioni scolastiche, quindi al partner e agli amici. Questo senza venir meno ai vostri progetti, direttamente proporzionali al ruolo e alla responsabilità professionali, non resta che dirvi bravi. Una persona incontrata di recente sembra corrispondere ora a tutte le vostre aspettative. Coltivatela con garbo e con la vostra consueta capacità di misurare la validità del rapporto sui tempi lunghi. Perché una nuova fiamma ora vi fa credere nuovamente che la parola amore esiste. Pur essendo un segno non incline al romanticismo, credete alla possibilità di un legame basato sull'affetto, sulla comprensione reciproca, sul buon accordo sessuale. Lavoro e denaro. In anni migliori, quando il surriscaldamento climatico non sussisteva, di questi tempi sareste stai sicuramente a sciare. Ora invece, o tempora o mores, vi accingete a zappare l'orto per seminare le prime insalatine. Meglio ancora se piove, anche nell'orto ci si bagna, perciò l'alternativa resta la creatività, si dunque alla pittura e al bricolage, fino alla cucina d'autore, dove vi vantate di avere la mano dello chef. I vostri talenti non hanno giorni della settimana e anche oggi dimostrerete così di essere i primi della classe. Benessere. Seratina rilassante, ovviamente con il piatto pieno di golosità. Peccato che il ballo non sia nelle vostre corde, sulla pista vi sentite un orso, ma ci sono sistemi ben più intimi coi quali tamponare l'eccesso di calorie. Strizzate l'occhio al partner che vi dirà di sì. Denaro. Anche un segno come il vostro, definito dai sacri testi come austero, può mostrare leggerezza e appeggiamenti frivoli che lo portano a svagarsi e a voler spendere e spandere all'occorrenza. È quello che vi succede proprio oggi che avete il cuore così leggero. In special modo se appartenete alla terza decade. Per lei, dovete ammetterlo, in amore siete affettuose, complici, fedeli, sempre presenti al momento giusto, ma a quanto racconta chi vi conosce e frequenta da anni, un po' troppo possessive. La ragione? Il vostro pessimismo nei confronti del genere umano, soprattutto dell'altro sesso, ma se in passato avete avuto esperienze deludenti non è detto che anche questa debba fare la stessa fine. Per lui, canzoni stonate sotto la doccia, col doppio piacere sentirvi puliti e profumati e per giunta anche ringalluzziti dalla melodia. Il ritmo è vita. Colore delle emozioni, fucsia. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 10, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie. 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 Grazie.